Francesca Cognato, rifugio SOS Primo Soccorso e Lula, un piccolo cucciolo di tre mesi appena diciamo trovato. Francesca Cognato è una delle storiche volontarie palermitane, oggi a rifugio SOS Primo Soccorso circa 100 cani ricoverati a rifugio e tanti problemi. Sì, i problemi sono tanti perché non bastano mai i soldi, i cani si devono curare, devono mangiare in più la struttura che sta accadendo a pezzi, nessun aiuto da parte del comune. Quanti chili di mangime ci vogliono al giorno per poter far mangiare questi cani? Circa 60, 60 chili. Tutto a sue spese? Sì, tutto a mie spese ed è veramente difficile, difficile procurare tutto sto cibo perché i cani sono tanti. Tu sei una delle volontarie storiche palermitane e quindi non hai il coraggio, la forza di girare la faccia dall'altra parte quando vedi un cane abbandonato? No, assolutamente no. Questi esterini indifesi sono in balia delle persone malvagie, cattive, quindi non me la sento, né di girarmi la faccia né di mandarli al canile perché al canile ci sono epidemie continue e quindi vedendo questi esterini così indifesi non li posso mandare a morire. Però si potrebbero adottare? Certo, certo. Le adozioni a Palermo sono molto difficili, non si capisce bene il perché, vogliono il cane di razza, quindi la maggior parte di questi cani messi su, vaccinati e tutto quanto partono per il nord e quindi sono altre spese, spese di viaggio, spese di tante cose. Quindi il nostro appello è rivolto intanto a chi ha la voglia di aiutare gli animali e di contribuire a dare una mano a Francesca. Perché mancano i volontari, mancano i volontari pure che vengono a vedere, il lavoro è tanto e non ce la sentono, ma il lavoro di un rifugio è levare la cacca. Volontari che possano aiutare il rifugio, ma anche persone di buona volontà che possano contribuire anche con una scatoletta. Certo, certo, certo. Ma anche per stare in compagnia degli animali, di coccolarseli. E questo non ce neanche, non si capisce a Palermo cosa vuol dire venire a fare volontariato. Poi ci sono dei bellissimi cuccioli pronti per l'adozione, qua c'è Lula, ma ce ne sono altri pronti eventualmente. Sette fratellini lei, però ci sono anche i cuccioloni da adottare, non solo il cuccioletto bellino, carino da mostrare in giro. Ci sono pure i cuccioloni, ci sono i cani adulti. Cuccioloni di quanti mesi? Sei mesi, ma anche un cane adulto, due o tre anni, che ha tanto bisogno di coccole e dà tante coccole. Perché a volte un cane adulto può essere anche più semplice nella gestione. Certo, certo. Un cane adulto è educato. Non è come il cucciolo che ci devi, il cucciolo rosicchia, il cucciolo fa cacca e pipì. Il cane adulto no. Bastano pochi giorni e si ambienta. Ma io ricordo che voi avete anche un grande terreno, SOS Primo Soccorso, assegnato un terreno confiscato dalla mafia, dove doveva nascere. L'anno scorso abbiamo fatto un grande incontro, sono venute le istituzioni e sarebbe dovuto nascere un canile modello, chiaramente con il contributo dei privati. Ma da allora ad oggi cosa è cambiato? Nulla. Il terreno era e il terreno è rimasto. È passato il boom, sono venuti i volontari, sono venute le istituzioni, ma niente di che. Ognuno se ne è ritornato a casa, i soldi non ce n'è, i fondi non ce n'è, non so più a quale santo... Quindi di contro i cani che un domani sarebbero forse dovuti andare là, continuano a rimanere qua e sei soltanto tu ad occuparti. Sì, tutto, tutto, tutto io faccio. Se qualcuno volesse venire a trovarti per contribuire con una scotoletta, per venire a fare del volontariato, per venire ad adottare un cucciolo, per venire anche a guardare questo rifugio, dove deve venire? Il rifugio si trova in via Bonafede, è una traversa di via Casalini, venendo da via Leonardo da Vinci Alta. E tu quando sei qua? Sono qui tutti i pomeriggi, compresa le feste, la domenica, perché devono mangiare pure giorni festivi.